Un evento ormai più che consolidato, atteso dai riminesi e anche dai molti turisti che apprezzano questo evento perché di fatto caratterizza la nostra terra non solo con l'aspetto musicale ma anche con la presenza dei pescatori che in quella giornata davvero danno il meglio di loro stessi presentando appunto l'aspetto legato al pesce ma anche musicalmente parlando devo dire che c'è qualcosa di grande rilievo. Noi abbiamo anche previsto, noi insieme al Consorzio del Porto che è organizzatore di questo bel evento nella spiaggia libera tutta una serie di intrattenimenti, di attrazioni sportive davvero importanti quindi l'invito a tutti quanti di essere presenti sabato prossimo alla quarta edizione della Molo Street Parade. Sulla spiaggia libera del Porto di Rimini verrà al sito un villaggio sport dove ci saranno tantissime attività e tantissime esibizioni sia di freestyler che di ragazzi che fanno pattini in linea ci sarà una big air cioè una rampa di 12 metri sul mare dalla quale ci saranno delle esibizioni ci sarà un'area fitness e ci saranno anche delle attività che il pubblico potrà fare cioè si potranno donneggiare le fatbike, fare anche una gara con i campioni, l'area fitness a disposizione insomma tantissime attività dalla venerdì a domenica così in abbinamento poi naturalmente con la serata fino a notte fonda con la Molo Street Parade e tantissime console dei DJ più importanti. Noi vi faremo vedere delle belle evoluzioni su una rampa alta a due metri voleremo, scivoleremo sui tubi e cercheremo di coinvolgere e far divertire la gente che ci guarda e che ci segue.